fermo Callus che razza di nome è Callus poi non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome ok Callus benvenuti sul canale Revival Zone io sono un reverendo e benvenuti alla quattordicesima puntata di The Last of Us Remastered andiamo a vedere cosa c'è qui io spero anche di essere vicino alla fine dire la verità però che avrei voglia di portare un altro contenuto perché questo non è che avete seguito tanto ma proprio per niente non va bene non va bene comunque se andiamo su qui no troppo alto vediamo un po' qua che cos'è questa roba niente è una foglia oh la la dai Joel corri e siamo a Pripyat adesso qui come minimo c'è il colero nessuno di questi edifici sembra uno specchio andiamo nella zona centrale da lì vedremo il resto del campus per me stavo dicendo ci sarà il colero di banditi allora secondo me qui c'è un bel banco da lavoro questo questo porca miseria ma viene bene non abbiamo armi e munizioni niente 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 munizioni niente munizioni niente munizioni c'è non va bene niente oh cosa dobbiamo fare vediamo un po' un po' di questo un po' di questo qua di questo favo vedere al banco di lavoro cosa riusciamo a fare ci siamo allora allora questo siamo quasi al massimo questo possiamo farlo diffusione diffusione ok e ok stiamo un po' trascurando il fucile perché perché questo non me lo dà non mi fa portare niente 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 va bene così dovrebbe reggire si quindi in questi posti la gente ci viveva e ci studiava anche se erano adulti si studiavano facevano feste cercavano la loro strada capivano cosa fare delle loro vite capivano cosa fare delle loro vite ok qui è tutto bloccato quindi o c'è qualcosa che mi sfugge è lì tirati indietro è la stagione comincia a far freddo è la stagione scusami eh resto con Callus oddio quel nome quanti pensi che ce ne siano di luce intendo ci vuole una bella squadra per un'operazione così credi che ci saranno mai coetanei? non lo so mentre col cavallo che sono? che sono? sembra resta col cavallo vado a controllare sei sicuro? sì, non voglio che scappi via torno subito torno subito mmm che brutti urli questo cosa è stato sistemato alla buona oh nooo nooo aspetta non mi spero l'ho vista non so se nel video ve ne siete accorti ma è qua eccolo no oh che cacchio a posto molto bene però a noi c'è andato in malora c'è andato in malora l'ascia che ha avuto un buon effetto un buonissimo effetto questo non me la fai prendere noto che si è rotta e questo cosa serve ad alimentare che cosa la sarcinisca allora mi sa che si scende da là ehi stavo pensando avrei voluto fare l'astronauta davvero sì immagina essere lassù tutto solo sarebbe stato bello cosa avresti voluto fare beh quando ero bambino volevo fare il il cantante ma smettila sono serio canta qualcosa ah no avanti non rido non ci credo joel per favore che stronzetta non c'è Quelle sono scimmie? Sì, un sacco di scimmie. Eh, come scimmie? Oh, porca miseria, non sono mica scimmie infette? Che ci fanno per le scimmie? Allora, domanda domandosa. Qui c'è un sacco da esplorare, quindi io direi che me ne scendo qui giù. Torno subito. Arrivo. Perché potremmo anche correre il rischio di non trovare tanta roba. E invece noi abbiamo bisogno. E siamo senza munizioni. E va bene. E c'è niente. Tutta questa strada per niente? Oh, canta roba. Kit soccorso potenziato. Oh, munizioni. Però mi sa che qua ci vivevano. Qui. Ottimo. Ottimo. Vediamo un po'. Allora, direi che abbiamo preso tutto. Dai. Andiamo un po' a vedere dall'altra parte. Qui qualcosa c'è sicuro. Qui qualcosa c'è sicuro. 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 E' impossibile che non ci sia nessuno. Con gli infetti che c'erano prima. poi troppo grande lo stabile non avremmo dovuto vedere qualcuno infatti forse quei tizi non vogliono dare nell'occhio se forse cosa luce cosa luce vedo bene è il primo segno delle luci allora la c'è un generatore e io devo andare di là accenderlo per far passare lei no penso proprio di no mappa del campus non Sì Io sinceramente ho un brutto presentimento Diario di uno studente Al massimo Non lo so Devo dire la verità che Sporre Come spore? Dove? Ok E allora c'è degli infetti Uh cacchiarola E devo scendere la? Veramente? Oh no 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 Io lo sapevo Oh merda Porca miseria Che fungone Ok 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 ma io lo sapevo che c'erano il colero qui dentro oh si lancia fiamme si guarda che fungazzo porca miseria ma è pieno è pieno porca troia urca boia ma non ti contamini camminare in mezzo ai funghi tu vuoi pizza? pizza e funghi? ma vacca boia ma guarda come crescono sui muri dappertutto bravo reggela e se adesso c'è qualcuno lì? oh aria pura è un po' una puntata un po' così questa senza vabbè a parte gli infetti perfetti oh qui c'è una bambina vediamo un po' abbiamo qualcosa da fare noi qui? no e adesso 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 altri infetti sto bene arrivo arrivo calma calma ciao 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 Ok, abbiamo il cancello. Ah, ce l'hai fatta? Sì, dai, basta. Credi che i clicker fossero luce? No, 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 non credo. Perché tengono gli infatti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Eh, potrebbe essere, sì, sì. Allora, di qua non andiamo da nessuna parte. Forza. Niente guardie, niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. E' effettivamente un po', secondo me, ci aspetta il comitato d'accoglienza. Poi però, qui è ben baricato. Ehi, guarda là giù. Cosa? Sì, sembra una via d'accesso. E? Chi è questo, Joe? È arrugginita e bloccata. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Potremmo passarci su. Passarci su? Senti un po', come ci passiamo su? Vai, indietro. Puoi che cavallo faccio un salto del genere? Ma mai al mondo? Ok, cavallo, non ci va. Oh, che cazzo è stato? Aspetta un po'. Aspetta un po' che non vedo, ma là. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. E quindi... Da dove saliamo? E mi sa che ci tocco usano ancora. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Sì. Grazie. Oh. Diamo un'occhiata. Niente. Al massimo. Eh? Altro tavolo da lavoro Beh, vediamo cos'abbiamo Eh, allora Potremmo La portata O gli aumentiamo il caricatore C'è il che sparo molto di più Velocità ti permette di ricaricare L'arma più rapidamente Due di trenta Io direi la capacità Ok Poi Ok E qui siamo a posto Questo Ok Sì, bel lavoro Sì, sì, sì Scusate Posso derubarvi di tutto quello che c'è? E qui E qui E qui Ehi, Luci! Qui c'è la cura per l'umanità! C'è nessuno? Ma brutta stronza! La cura dell'umanità! Penso che ti vogliono ammazzare! Niente di utile! Non c'è niente di interessante, solo lo bacio medico. Non capisco! Sembra che abbiano fatto tutti le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Grida le lucide, luci, luci, luci. Ehi, siccome conviene solo guai, aspetta! Ehi, siccome conviene solo guai, aspetta! Non ci sono corpi. È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati. Non mi piace questa cosa qui. Troppo, 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 troppo deserto. Questo? E' lì? Niente. Si pensa a lei che gli facciano un prelievo del sangue e è finita lì, eh, te l'accorgerai te, bella, eh, senza spoilerare niente, casino che succederà. Allora, a dire la verità, c'è troppa mattoni, non mattoni per attirare attenzione, per me qui ci scatta un sparatore mai visto al mondo, è troppa roba, troppa roba, no, 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 direi proprio di no. Cosa? Probabilmente sono clicker, giusto? No, i clicker non si nascondono. Beh, ragazzi, io direi che la terminiamo qua, lascio la suspense. Sinceramente non vedo l'ora di arrivare verso la fine di questo gioco qui. bello, tutto quello che volete, però un po' non lo seguite, quindi non vedo l'ora di portarvi magari qualcos'altro che vi può interessare di più. Noi ci vediamo alla prossima e vi saluto. Ciao, ciao. Ciao.